Anzaldi dentro l'area, Anzaldi destro, rete! 3-0 del Torino, grande gol di Cristiano Anzaldi, il primo in Serie A team, in 62 presenze per l'Argentino e adesso la partita è chiusa. Siamo al 34esimo, fa tutto lui, rivediamo il lancio di Obi, forse da rivedere la posizione di Anzaldi, forse in fuorigioco, poi il tentativo di Palolento si scontrano, Faragò e l'altro giocatore sulla fascia, poi Anzaldi fa quello che vuole, limite dell'area.